Partiamo bene col cecolare che cade Però mi viene da dire che è da tanto che non parliamo politicamente Che non mi faccio parole, che non ne parliamo Ma se invece stavolta parla dell'Europa, dell'Italia Parlassimo più in grande degli Stati Uniti d'America Ma che tu, che ne sai degli Stati Uniti d'America? E vi dirò, non mi capacito niente degli Stati Uniti d'America Anche perché gli Stati Uniti d'America sono un luogo così strano Nelle quali le armi vanno in giro come se niente fosse, hanno 50 regole diverse In alcuni paesi si è ancora la pena di morte e in altri no E alcune volte veniva definito Oh Dio santo Ancora il sogno proibito degli europei Questo Stati Uniti Ma Però posso essere sincero e dirvi che non me ne frega assolutamente In queste elezioni di Stati Uniti d'America In queste primarie, in queste elezioni tra Repubblica e Democrazia Anche perché la solfa è sempre la stessa Sono dei guerrafondari praticamente E noi ne paghiamo sempre le conseguenze Perché non sempre stare in mezzo a questa Nato Regà, la Nato forse è stata la scelta peggio che ci potesse essere Tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America Però a mio parere è personale questo Punto Perché Per avere più sicurezza Non serve fare altre guerre Invece la Nato è fatta per quello Purtroppo Sicuramente se Trump lo rileggeranno Comunque i dazzi ce li metteranno a noi Quindi non so quando ci convenga ancora Ancora a far parte della Nato Se ci fanno pure i dazzi doganali Cioè capite? Il protezionismo chiamato da Trump Che per fortuna Biden aveva tolto Una cosa buona l'ha fatta Biden Allora partiamo a questo opposto Come fai a scegliere Nei Stati Uniti d'America Tra Trump Che è stato 5-4 anni al governo E sparava Un giorno una più grossa dell'altra Tra Mori verso il Messico E protezionismi Guerra contro i clandestini E Sanità privata E potere ai più forti Potere ai più ricchi E poi che ne so Dazzi doganali appunto E I rapporti con l'Europa Che erano ai minimi storici Ok Allo stesso tempo Adesso abbiamo Biden Avevamo Biden E mi direte Regà La scelta è questa E vi dire Ok che la scelta è questa Ma La soluzione era Biden Per i repubblicani Cioè Per i democratici La soluzione Era veramente Biden Cioè Io mi chiedo Ma in tutti i stati d'America Che sono 300 milioni di persone Io posso capire Che non ci hanno Tantissimi politici Che vogliono guidare I stati d'America Ok Ma ci sono soltanto Per i democratici Kamala Harris E altri 3 o 4 governatori Che manco chi siano E Biden Boh Ma ci sono per i repubblicani Soltanto Trump Inviscati In guai giudiziari E quant'altro Che manco si Vero scone Nell'epoca Dei suoi giorni migliori Oh Cioè La scelta Dal peggio E il più peggio Ok che Biden Comunque La testa Cominciava a farci lecca Però Comunque Io mi chiedo ancora Kamala Harris Potrebbe essere veramente Mediti Biden Ok Prima donna Era a casa bianca Se è eletta Anche perché Ieri E non è stata eletta Ma poi I bei tempi In cui c'erano ancora Hillary Clinton E Anche Bernie Sanders Non ci sono più Anzi Quella lì Nancy Pelosi Potrebbe essere La speaker Dei democratici La casa bianca Potrebbe essere Comunque una buona scelta Però Ragazzi C'è il senso Io non posso stare qua A pensare Che è il nazionale Più potente Del mondo Tra Quattro mesi Deve scegliere E i democratici Ci hanno ancora Un leader E non ci hanno Pozzato In tutti questi anni Che poteva magari Farci lecca Biden Mi chiedo io E Biden Sì sarò io Sì sarò io E Trump Che invece Viene sparato A 550 casi Politici Giudiziari Io mi chiedo Boh C'è Lo stato più potente Del mondo Deve affrontare Guerra In arabia In Paese Arabica Israele La Palestina E la Russia E l'Ucraina E 500 altre guerre Che sono in Africa In Asia E quant'altro Cioè Poi La cosa più divertente È che Quando devono fare Le loro campagne elettorali Sanno soltanto Parlare di Protezionismo Salute Che deve essere Privata Liberarla E rendela pubblica E mori alle frontiere E sanno parlare Di Mandare più fornitore A l'Ucraina Proteggere Le guerre Altrui Ma in casa vostra Non è che vada tutto così bene Eh americani Tra Le armi che vengono portate a scuola Come se niente fosse Le armi che vengono portate In questo posto di lavoro Come se niente fosse E compri comunque dove vuoi 50 leggi diverse Perché hanno 50 paesi diversi Che sono in realtà Dei paesi a sé stanti Ma fanno parte di una Dicevo Questa è un parlami Soltanto di Protezionismo E delle guerre Altrui Non guardano mai In casa loro Vanno in giro Con le armi Ma in prestazione A go go Sanità Privata 50.000 leggi diverse Tra 50 stati diversi Che sono a sé stanti Pene di morte E non so Le altre leggi Perché non vuoi neanche saperlo E noi dobbiamo stare qua A dire Wow I stati d'America Devono essere il paese Che è stato portato Più di tutti Io posso capire Che già il nostro governo Me l'ho dimesso male Però Quelli Stanno un pochino Messi peggio Per me Oltretutto Cioè Le argomentazioni Noi non ne hanno Cioè Sono sempre i stessi argomenti Forse sono più aperti Per quanto riguarda I diritti Magari per le comunità LGBTQ Plus Basta Nient'altro Cioè Nel senso Lo sport Vabbè Sapranno forse qual è Però Non è che convenga tanto Lì parlare di sport Che Loro cos'è Il basket Superbowl E basta Vabbè Luoghi comuni Sì Luoghi comuni Ok Però comunque Effettivamente Adesso Incentrandomi sulle parole Che vengono dette Da nostri Erano Quegli ex Due candidati A casa bianca Trump E Quello che era Biden Prima Quali sono i concetti Che vogliono portare avanti Affinché possano essere eletti C'è il senso Protezionismi vari Sanità pubblica privata Le guerre Fine delle guerre In mondo E perché L'Europa deve sempre Correre dietro Questi qua Perché Scambi commerciali Import Export Ok E poi Sua sanità Sempre Altra cosa Non è che Loro Siamo stati Proprio bravissimi A gestire il covid Per dire Una cosa Non per dire Anche bene Adesso ha il covid Ancora Quindi Non è che sono stati bravissimi Ad arginarlo Non che esso Siamo bravissimi Qua in Europa Però Per dettagli Però Quel che mi chiedo io È Gli stati uniti Sinceramente Di argomentazione loro Non me ne frega molto Quello che sanno fare Meglio L'abbiamo capito È Insomma Comandare il mondo Cerca di gestire le cose Male Le gestiscono Però Però A parte questo Veramente Devo trovarmi Alla casa bianca Due leader Che non hanno Se non una fetta Del loro pubblico Una fetta Della loro Della loro Insomma Coalizione Dello partito Che gli Favorisce Cioè Poi Io dico Ma Obama Clinton E tutti gli altri Ci hanno pensato Solo adesso Al fatto che Biden Può portare avanti Fino alle elezioni Del novembre Del 2024 Cioè È un po' tardivo Pensare che adesso La Harris Possa aver tutto Sostere il suo partito Senza passare Da primarie E che loro Siano tutti uniti Nella vittoria Verso vittoria Purtroppo C'è da dire Che Biden Nonostante tutti i suoi Guai giudiziari Probabilmente Vincerà Questo è un bene Perché vuol dire Che se fa altri 4 anni Poi ce ne liberiamo Totalmente E basta E poi anche La sicurezza Adesso C'è da dire Che è un campanello D'allarme Importante Perché a quanto paio In America Non sanno gestirla Ma è un campanello D'allarme Perché adesso Trump Può puntarci molto Come argomento Siccome È stato salvato Da Dio Per Grazia divina Da questo attentato Che poi Regà Cioè Veramente Loro Sono proprio Artefici Il loro destino Tre volte Hanno permesso Che le armi Fosse così tanto Libere da usare In America E poi Tanti i loro candidati Presidenti E ex presidenti Vengono assassinati In questi modi qua Da armi Ma io dico Ma scusa Mettete indietro Sulle armi Cioè Non è possibile Che la lobby Delle armi In America Sia così forte Che veramente Nessuno Possa farci niente Cioè È ridicolo Che quasi Siano più forti Quelle lobby Che magari Quelle farmaceutiche Che siano quelle Tecnologiche O quant'altro Cioè Dai E mi dispiace Per loro Vabbè Poi però Prendiamo come esempio Che sono il paese Importante E sono Il sogno Del mondo O almeno Un tempo Lo erano Ora Attraverso tutte queste cose qua Posso dire Che sinceramente I statuti Vengono visti Come un paese Strano Solo Da tanti E non di certo Un paese Dove la gente Emigra Per lavorare O per avere condizioni Di lavoro migliori Anche perché Sicurezza Non è proprio All'ordine del giorno Da quelle parti Vabbè Questo era un video Un po' random Ma ho voluto Semplicemente Parlar di questi argomenti Perché era giusto Parlarne E dire che C'era da sbagliarsi Prima E dire che Veramente Per peggio E meno peggio La soluzione Non è che Cambi molto Che poi Dovrebbero essere Gli argomenti Essere importanti Ma di argomenti Che ne portino Tanti In questi due Non è che Ne abbiamo portati Con i tanti In questi arco Di anni E quant'altro Per dire Vabbè Fatemi sapere Cosa ne pensate E a presto Dai Con noi continuiamo Tipo eticamente Ciao E Boh Vedremo cosa farà L'aeree Se verrà Eletta Amite nomination O quant'altro Oppure Parlando di primarie Anche se Sono portative Perché Allora E avrebbe avuto Forla Sia I repubblicani Che i democratici Non le ha fatte Nessuno dei due Trump è stato Confermato Nostante I guardi giudiziari Biden invece Nonostante i guai Della mente Che ha Non è stato Per niente Confermato E Biden Comunque Ne ha fatti L'absolutamente Certo Potevamo capirlo Già a gennaio Prima ancora Quando cadeva in bicicletta Che non era più Adatto Per ricoprire il ruolo Ancora tanto lungo Ma vabbè Meglio tardi che mai No Si dice così Vai Vabbè Iscrivetevi al canale Fatemi sapere Cone pensate E a presto Con noi contenuti Ciao Magari Politicamente italiani Sono meglio Europei Almeno sono Un po' più centrato Sull'argomento Ciao A presto Grazie a tutti Grazie a tutti